oh via allora mi fa batte musate che mi sono fatto male al ginocchio è bello è un bel ragazzo è un bello sposo è un bello sposo è un bello sposo che futuro dove è qui dove è lo scalino più alto si che batta anche in terra vediamo se si ricorda dove abita per bene ci dai uno scalino vediamo se ti ricordi chiediamoci ma questa è casa tua ogni buono lo sarà più ecco aiuto no io ancora non sento cantare più suonare non sento ancora non accorto forza volevamo canzoni tristi per l'occasione canzoni tristi è un buono ragazzi lo farà anche a parte triste si sentono e chiudono i locali via 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 suona si si scusate loro ti capiscono è diverso e io sento io non credo che io non cos'è la gramatica la penso sia o se no e via non fatti ma canzoni via che canzone volete dai facciamo i tuoi no lo so dai ti lasciamo anche questa scelta marco se ne è andata va già ma è scogliativo potete vedere una canzone e questo pover'uomo questo pover'uomo deve suonare per te sta solo per voi ecco proprio questo allora c'è anche il ju boxing certo a richiesta mi mette la monedina non sento eh c'è anche il cappello è essenziale una facile una facile la canzone è oh vai credi è anche abbastanza corpita infatti mi lamentavo in venta inventa infatti inventa guarda lasci della tua vita di quello che succederà ciao ciao grazie ciao io so soltanto a questa sera non si mangia se continuano a raccogliere nulla ma io ho fame sento anche lo dottor fame sona 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 no niente no stasera si va a marracata a chiusura te lo dio io mi fate anche bene spero però oh ecco arrivano bambini loro sono sempre bravi voi hai passato sona povia sona povia povia va bene povia va benissimo inneggia all'amore di coppia quindi va benissimo e non me la ricordi questo scappolo facciamo facciamo eh in questo momento del matrimonio è vent'anni è vent'anni si sposa si sposa non tenere tesi se no tu sembri no io no scherziamo guarda non metto qui la colline grazie grazie tutti possono leggere questo uomo si sposa si sposa su richiesta qualsiasi canzone avete una preferenza una canzone qualsiasi buona arrivare i carabinieri eh se arrivano a carabinieri stanno te le canzoni le sanno sei te il fascino roso sono io il fascino eh certamente si dai su una canzone inventa gli accordi faccio un accordo la canzone faccio una che capa lo zio vai lì 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 quello sarebbe il massimo lì 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 dopo torniamo quando ci sarà la crema di Pistoia tutti dell'età di Marco che lo sfotteranno poi allegramente dicendo oh ma io l'ho visto eri lì facciamo i gans e drossi vai gans ma non passa nessuno da mio ferio perché dopo devi andare a chiedere te tipo la facendo tipo ragazzi guardate mi sposo avete due lire vi prego il signore ha guardato il signore ti ha guardato malissimo appena ha letto questo uomo si sposa quasi schifato si è fatto il segno della croce si 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 c'è uno che si è più girato e pistola che girato e pistola neanche su internet dopo che verrà più a questo vedremo il video come scusa normalmente questo uomo si sposa sesso, tette, culo così che ci vanno in miliardi ma gli insegniamo noi che problema è gli mando un cd per posto chiaramente lo spurtanamento dovrà arrivare fino almeno a Modena se mai non sento cantare oh è fuori deve entrare da qui non a Chirona adesso Noi, assolutamente! E' il tuo compito! Sì, ma non mi va! Non mi va e non mi va! Non è il suo numero! Niente, e allora vuol dire che non è lei e dobbiamo cercare un'altra! Ma su quella mi sa che è difficile! Non si può riparla, però ho dubbi sulla sessualità! Dubbi su cosa? Sulla sessualità, se c'è... Ma quello può essere un problema... E quindi? Quindi potremmo anche provare con un uomo! Non anche no! Possibiamo sedere a cazzo! Assalvati, vai di andare! Un'altra al minimo, dai! Ma lui è un bastardo del gruppo, fammi capire! Guarda, guarda, guarda! Quella ragazza mora laggiù all'ultimo tavolo! Che tacco! Appunto! E' quello! Così si cazza! Allora vabbè! Se non è Matteo così! No! Non è un parattolo! Che bei cosce che c'ha questa figliola! Col pelo! Per finire il lavoro! Truccocella! Ma... Mi ci vorrei una cosa per fare un pugno più di... Eh, fate! Ora si! Un po' di rasone! Non c'è nulla, vedi? C'è, c'è! La barba! Facciamogli la barba! Almeno la ferisola! Almeno la ferisola! Almeno la ferisola! Mi ha il tizio! Mi ha il tizio! Che ti baccaglieri stasera! Vabbè, con gli occhiali no! Si prende una coppola! No! No! Che lettuale! Eeeh! E ne capivo tutto! Quindi è tassera! Tu dà la segretaria! Comunque Marco, tassera ti dico che incontrerai gente che non conosci! No! Eeeh! 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 No! Amigo show! Eeeh! Eeeh! Una ne sono sicuro, lindu! Una, una! Una, una! Una, una!